fratelli nel signore oggi parleremo di quello che è scritto in marco 16 17 fino al versetto 20 questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto questi sono i segni innanzitutto voglio parlarvi voglio accennarvi a una nota che si trova nelle bibbie la nota riguarda dai versetti di marco del vangelo di marco dal versetto 9 al versetto 20 questa nota dice a margine della bibbia nella mia almeno c'è non so se c'è anche nella vostra i due più antichi manoscritti non contengono questi versetti da 9 a 20 i due antichi manoscritti quindi e oltre a parlare di questi soggetti che sono 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 trattati e sono elencati in marco 16 17 20 oltre che parlare di questi noi vedremo che il resto della scrittura conferma questi passaggi quindi benché questi perché perché vi dico questo vi dico questo perché i cessazionisti coloro che non credono nei segni potenti di dio coloro che non credono potrebbero utilizzare contro di voi che citate le scritture questi passaggi potrebbero citarvi questa nota a margine ma nei due antichi ma non più antichi più antichi manoscritti questi versetti non venivano contenuti ora noi non è che siamo chiusi di mente e non le consideriamo le cose e attenzione noi dobbiamo giustamente tenere conto sia degli argomenti a favore di quelli che noi trattiamo ma anche di quelli contrari questo è chiaro non dobbiamo avere la mente chiusa noi siamo aperti a ogni obiezione discutiamo e cerchiamo la verità e la soluzione ad ogni ad ogni questione quindi a questa obiezione come rispondiamo rispondiamo ma comunque sia che ci sia scritto o no nei due più antichi manoscritti per noi la cosa importante è che quei versetti da 9 a 20 non non contrastano non contrastano con tutto il resto delle scritture quindi noi con il resto delle scritture confermiamo che quello che è scritto in quei versetti da 9 a 20 di marco praticamente sono veraci anche se mancano nei due più antichi manoscritti perché il problema il problema sta nel fatto che ci potrebbe essere stata una aggiunta oppure hanno tolto qualcosa che danneggia danneggia la sacra scrittura che danneggia la verità che viene esposta nelle sacre scritture ebbene se noi risolviamo questo problema troviamo la soluzione a questo problema di questi versetti esaminando la somma della parola perché come scritto nel salmo la somma della tua parola è verità ebbene se questi versetti che che si dice che dicono gli studiosi c'è anche nella nota margine della bibbia che nei due più antichi manoscritti non ci sono questi versetti ebbene comunque sia questi versetti sono confermati dalle dalle altre sacre scritture che ci sono e che non mancano non mancano appunto nei nei due più antichi manoscritti quindi quindi se tutto è confermato possiamo tranquillamente accettare anche questi versetti che siano ispirati da dio che il problema è diciamo rigettare il problema è rigettare quei quei libri che non sono ispirati dallo spirito santo però se questi versetti sono perfettamente integrati con il resto delle sacre scritture se sono confermati possiamo accettare anche questi versetti quindi non c'è non c'è nessun tipo di problema non ci sono problemi che possono diciamo ostacolare il credere il credere a questa a questa dottrina a questi a questi versetti biblici che diciamo mancano in alcuni in alcuni manoscritti cominciamo a a leggere questi versetti quindi abbiamo detto che stiamo parlando di marco 16 da 17 a 20 ora leggiamo e sta scritto or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio caceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessere alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno il signor gesù dunque dopo aver loro parlato fu assunto nel cielo e sedete alla destra di dio e quelli se ne andarono a predicare da per tutto operando il signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnava vedete or qui al versetto 17 c'è scritto questi sono i segni che accompagneranno chi quindi accompagneranno quelli che avranno creduto quindi la prima cosa che riguarderà i segni di cui parleremo e che sono strettamente legati a chi non a chiunque ma solo a quelli che hanno creduto quelli che hanno creduto sono quelli che hanno hanno creduto con tutto il loro cuore nel sacrificio compiuto da cristo gesù e lo hanno con la bocca confessato come signore e salvatore si sono riconosciuti peccatori hanno chiesto misericordia a dio e i loro peccati sono stati lavati sono stati rigenerati spiritualmente sono diventati figlioli di dio e credono quindi in dio credono in cristo gesù ora questi sei questi credenti questi che hanno creduto nel signore nostro gesù cristo tutti coloro che hanno creduto possono essere accompagnati o da più segni che abbiamo letto o anche da uno solo capite comunque i credenti sono accompagnati da questi segni questo cosa vuole dire vuole dire che coloro che non hanno creduto non possono essere accompagnati da da questo da da questi segni e questo è importante qui c'è un elenco va bene c'è un elenco un'altra cosa importante che voglio farvi notare è che in mezzo a tanti cianciatori che ci sono oggi che vengono in mezzo alle chiese facendo vedere dei segni strani delle cose strane no quello che bisogna tenere da conto è che questi sono i segni che sono stabiliti da dio questi e altri che sono scritti nelle sacre scritture il dio è vero potrebbe anche fare altri segni nuovi e non è che lo escludiamo però a noi io parlo delle cadute all'indietro parlo delle giacche che le muovono nelle riunioni e tutti cadono all'indietro capite tutti questi segni no voi non li trovate nelle sacre scritture i segni che trovate nelle sacre scritture sono altri e tra questi segni abbiamo fatto oggi ne parleremo di alcuni che sono indicati appunto qui in marco 17 questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno questi sono i segni fondamentali non solo questi è chiaro poi bisogna vedere anche il resto delle scritture ma comunque sia i segni che i credenti devono manifestare devono essere devono essere indicati nelle sacre scritture perché i segni che non sono indicati se uno si inventa un segno per ingannare le persone segni strani segni a noi sconosciuti a noi che ci atteniamo e ci vogliamo attenere alle sacre scritture non dobbiamo andare dietro a questi cianciatori che si inventano che si inventano dei segni per attirare per attirare l'attenzione capite per far vedere che lo spirito santo opera cose nuove ma non sono confermati dalle sacre scritture non sono confermati tra i segni ora uno dei primi segni che viene indicato qui è questo nel nome mio cacceranno i demoni quindi nel nome del signore gesù cristo coloro che hanno creduto hanno autorità e podestà di cacciare i demoni capite perché i demoni sono sottoposti a coloro che hanno in loro dimorante lo spirito dell'idio vivente perché coloro che hanno creduto coloro che sono stati rigenerati spiritualmente hanno dentro di loro che abita lo spirito di dio e lo spirito di dio è molto più forte e potente di tutto dello spirito che già c'è che già c'è nel mondo dello spirito che governa il mondo dello spirito del maligno quindi lo spirito di dio è molto più potente e abita in ogni credente abita in ognuno che ha creduto quindi quindi infatti è scritto in romani che chi non ha lo spirito di cristo egli non è di lui quindi è importantissimo che che diciamo abiti lo spirito di cristo dentro un credente perché se se un credente non ha lo spirito di cristo dentro di lui come farà cacciare i demoni capite ecco quindi che è un segno anche questo di cacciare i demoni che può essere manifestato soltanto da coloro che hanno lo spirito di dio soltanto da coloro che sono credenti veri credenti rigenerati spiritualmente quindi coloro che non sono credenti non possono cacciare proprio niente e nessuno e lo vedremo infatti lo citeremo anche questo caso lo citerò più avanti adesso vediamo questo e questo avvenne perché queste parole gesù le pronunciò dopo che lui fu risuscitato e si mostrò ai suoi discepoli disse queste parole quindi adesso vediamo vediamo come si sono adempiute perché gesù ha detto che nel nome mio cacceranno i demoni ai suoi discepoli ora andiamo a vedere in atti degli apostoli andremo a vedere alcuni casi in cui i demoni erano cacciati nel nome di gesù cristo quindi questo dimostra che gesù e anche questi questi passi queste parole dette citate da gesù sono dimostrate che è dimostrato che si sono adempiute ora si sono adempiute allora e si possono adempiere ancora oggi badate bene badate bene che le medesime cose che venivano fatte ai tempi degli apostoli sono valide ancora oggi cioè questi segni non ha detto gesù che sono segni solamente per quei tempi ma quei segni sono per coloro che hanno creduto ed è valido per sempre per sempre per ogni volta che c'è qualcuno che ha creduto può essere accompagnato da questi segni tra cui anche quello di cacciare i demoni adesso noi andiamo a leggere in atti degli apostoli se noi leggiamo in atti degli apostoli al capitolo 5 stanno scritte queste parole praticamente era successo questo che anania e saffira vi ricorderete questi passaggi mentirono allo spirito santo cercarono di ingannare gli apostoli e furono messi a morte da dio furono messi a morte e gran paura ne venne soprattutto soprattutto i quanti tutti quelli che udivano tali cose temevano erano presi da gran paura tutta la chiesa e giustamente il dio va temuto ora al versetto 12 leggiamo dopo dopo quello che avvene ad anania e saffira luca lo scrittore degli atti degli apostoli dice questo scrive queste parole e molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di pari consentimento si ritrovavano sotto il portico di salomone ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro il popolo però li magnificava e di più in più si aggiungevano al signore dei credenti uomini e donne in gran numero tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano sanati quindi per le mani degli apostoli avvenivano dei gran segni e prodigi c'erano anche delle guarigioni ma anche coloro che erano tormentati da spiriti immondi nell'autorità in Cristo che avevano gli apostoli e in quanto credenti e in quanto credenti e nel nome di Gesù Cristo venivano cacciati questi spiriti immondi questi questi spiriti venivano cacciati e uscivano da queste persone che erano possedute erano tormentate dagli dagli spiriti immondi ora un altro passaggio un altro passaggio che leggiamo sempre scritto da Luca in Atti degli Apostoli lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli capitolo 8 dal versetto 4 in poi dal versetto 4 in questo caso c'era l'evangelista Filippo c'era l'evangelista Filippo che andò ad annunziare, si trovò ad annunziare l'evangelo nella città di Samaria ora vediamo quindi cosa accadde in quella città quando come conseguenza dell'evangelizzazione di Filippo coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola e Filippo disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo udendo e vedendo i miracoli che egli faceva poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano gridando con gran voce molti paralitici e molti zoppi erano guariti e vi fu grande allegrezza in quella città vedete tra le cose Filippo che aveva il ministerio di evangelista Filippo andò in questa città di Samaria annunziò l'evangelo ma non solo annunziò l'evangelo ma anche compì dei segni dei segni e dei prodigi e dei miracoli tra quelle cose che compì l'evangelista Filippo c'era anche quello di cacciare i demoni infatti qui dice gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano quindi non erano neanche pochi quindi nel nome di Gesù vedete c'era l'autorità Filippo per la predicazione di Filippo nel nome di Gesù Cristo i demoni erano cacciati via perché i demoni, badate bene sono sottoposti a coloro che hanno creduto in virtù del fatto che nel credente abita lo Spirito Santo e quindi bisogna avere anche quella fede bisogna avere fede e credere in maniera certa senza dubbi che pregando per qualcuno che è posseduto questo demone possa uscire per l'aiuto di Dio naturalmente escono i demoni per la potenza dello Spirito Santo non escono non possono uscire diciamo per altri motivi ma perché gli spiriti spiriti vengono cacciati via dallo Spirito Santo per mezzo della preghiera dei santi una preghiera fatta con fede naturalmente nel nome di Gesù e nell'autorità che Cristo ha dato con fede una preghiera a Dio lo Spirito Santo caccia via questi spiriti e così ha fatto Filippo così facevano gli apostoli e lo ha fatto anche l'evangelista l'evangelista Filippo che molti dei samaritani sono stati liberati da demoni un demone un demone particolare è stato cacciato anche è stato cacciato anche dall'apostolo Paolo e questo lo andiamo a leggere al capitolo 16 di Atti degli Apostoli al versetto 16 quindi 16 e 16 di Atti degli Apostoli stanno scritte queste parole e avenne come andavano al luogo di orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino la Diodati dice uno spirito pitone nella Luzia abbiamo uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza così fece per molti giorni ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed esso uscì in quell'istante quindi Paolo era in quel luogo era in Filippi che annunziava l'Evangelo si era convertita quella donna con la sua casa si era convertita a Cristo e tra le cose che successero in quel tempo in quel luogo c'era anche che Paolo e i suoi collaboratori erano seguiti da chi? da una donna che aveva uno spirito indovino una donna che aveva uno spirito che la faceva indovinare determinate cose infatti c'è scritto il versetto 16 c'è scritto che con l'indovinare quella donna procacciava molto guadagno ai suoi padroni quindi era qualcosa era anche questo un qualcosa di particolare di demoniaco che veniva dal maligno però Paolo a un certo punto non lo fece subito ma lo fece quando venne il momento opportuno sempre quello stabilito da Dio perché le cose non è che le dobbiamo fare quando secondo la nostra volontà ma ogni cosa comunque avviene nel momento in cui viene la volontà di Dio nel momento in cui il Dio ha stabilito che una tale cosa debba avvenire ebbene è venuto il momento allora Paolo disse ecco come cacciò ecco come cacciò questo spirito le disse e naturalmente queste cose che noi leggiamo che hanno fatto gli apostoli e le possiamo fare anche noi anche noi dobbiamo credere e dobbiamo pregare per cacciare i demoni cioè i demoni ci sono sottoposti naturalmente dobbiamo vivere una vita santa dobbiamo avere fede in Dio dobbiamo perseverare nella preghiera dobbiamo perseverare nello studio della parola è chiaro che se siamo lontani da Dio non abbiamo comunione con Dio noi non cacciamo niente anzi il maligno ci potrebbe saltare addosso e ferirci farci del male se non siamo in comunione con Dio però se siamo in comunione con Dio e abbiamo fede in Dio e lo spirito santo opera in noi è in noi allora preghiamo pure come fece Paolo perché così deve avvenire la preghiera per cacciare i demoni e sta scritto appunto che Paolo dice io ti comando vedete un'autorità un comando si dà il comando a questi spiriti mondi si deve dare il comando io ti comando per quale autorità lo dice dopo l'Apostolo Paolo e dice nel nome di Gesù Cristo perché Gesù Cristo ci ha dato questa autorità infatti abbiamo letto in Marco che i segni di coloro che avranno creduto sarà appunto anche questo uno tra questi è appunto quello di cacceranno i demoni capite quindi è un segno anche questo che riguarda coloro che hanno creduto naturalmente stiamo parlando nell'operare queste cose di credenti che sono nati di nuovo ma che rimangono in comunione con Dio che non si sono sviati che non si sono allontanati che si santificano e che hanno fede in Dio eh guardate bene se uno è sviato di cuore può essere anche credente ma anche se ma se si è sviato di cuore non può operare proprio un bel niente quindi l'Apostolo Paolo che era in comunione con Dio vedete come agì disse io ti comando ma non perché Paolo fosse qualche cosa di particolare perché ci è dato di fare questo ci è data questa autorità infatti Gesù diede autorità di cacciare i demoni quando mandò i dodici quando mandò i settanta diede l'autorità di cacciare i demoni quindi vedete l'autorità viene da Cristo se noi diciamo io ti comando allo spirito immondo e così deve avvenire e dobbiamo dire però per quale autorità li comandiamo di uscire nel nome di Gesù Cristo io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca che tu esca vedete l'ordine di uscire da quella persona e questo spirito immondo guardate cosa è successo ed esso uscì in quell'istante ma perché perché è uscito chi l'ha fatto uscire basta una parola detta basta diciamo cioè c'è qualcosa di particolare noi diciamo il nome di Gesù cioè chiunque il nome di Gesù può cacciare i demoni no perché cosa avviene in quel momento cosa avviene avviene che lo spirito santo opera nel spingere fuori quello spirito maligno capite chi caccia via lo spirito lo spirito maligno è lo spirito santo materialmente effettivamente è lo spirito di Dio che lo caccia infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo andiamo a leggere appunto questo Matteo 12 che ci fa capire che anche Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello spirito santo questo lo dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare noi è per quale motivo esce lo spirito immondo cioè non è che lo spirito immondo esce perché vede noi o perché stiamo parlando con la nostra voce no è perché tutto questo che noi facciamo nel comando e nel nome di Gesù Cristo fa operare lo spirito santo e cacciare via quel demone capite Matteo 12 dal versetto 22 sì allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo sanò tal che il mutolo parlava e vedeva e tutte le turbe stupivano e dicevano non è costui il figlio di Davide ma i farisei udendo ciò dissero costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù principe dei demoni e Gesù conosciuti i loro pensieri disse loro ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere e se Satana caccia Satana egli è diviso contro se stesso come dunque potrà sussistere il suo regno e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli per questo essi stessi saranno i vostri giudici ma se è per l'aiuto dello spirito di Dio che io caccio i demoni è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio vedete come segno Gesù con queste ultime parole dice se io caccio i demoni per l'aiuto dello spirito di Dio è pervenuto il regno di Dio fino a voi è un altro modo di dire vedete se si verificano questi segni vuol dire che si è creduto si è creduto vuol dire che il regno di Dio è operante vuol dire che lo spirito di Dio è operante e qui chiaramente anche Gesù dice che i demoni Satana non può cacciare Satana se un cattolico idolatra che serve adora gli idoli si mette a fare l'esorcista a cacciare i demoni attraverso una presunta acqua santa che non è un'acqua santa ma è solo immondizia acqua queste persone qui non cacciano proprio nessuno capite attenzione c'erano anche nella scrittura c'erano nella scrittura sono indicati sempre in atti degli apostoli un altro caso e sono indicati anche anche allora c'erano delle persone dei famosi esorcisti che cercavano di cacciare i demoni così tanto citando il nome di Gesù ma non era operante in loro lo spirito di Dio quindi come i cattolici romani possono anche buttare acqua possono portare con sé l'ostia possono dire nel nome di Gesù lo possono dire ma quello che non hanno i cattolici è lo spirito dell'iddio vivente dimorante in loro capite ecco perché un cattolico idolatra che prega Maria che fa altre cose soltanto dicendo il nome di Gesù non caccia proprio nessuno e adesso lo andremo a leggere un caso simile i cattolici o altri chi che sia non cacciano proprio nessuno ma perché Satana non caccia Satana e anche perché i demoni escono solamente per l'aiuto dello spirito di Dio e questo lo leggiamo lo andiamo a leggere in Atti capitolo 19 dal versetto dal versetto 13 Atti 19 13 sono scritte queste parole or alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica e quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo sceva giudeo capo sacerdote e lo spirito maligno rispondendo disse loro Gesù lo conosco e Paolo so chi è ma voi chi siete e l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro li soprafece e fe loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti e questo venne a notizia di tutti giudei e greci che abitavano in Efeso e tutti furono presi da spavento e il nome del signor Gesù era magnificato vedete quindi non basta non basta il nome di Gesù non basta dire così come una sorta di frase come si ode talvolta come una frase superstiziosa quasi magica dire nel nome di Gesù ma perché è l'autorità nel nome di Gesù c'è l'autorità che Cristo ci ha dato ma per mezzo della fede per mezzo della preghiera fatta con fede con efficacia quindi lo Spirito Santo opera cacciando il demone quindi devono esserci tutti questi elementi quando si cacciano i demoni non è che c'è soltanto la parola Gesù non è la parola Gesù che li intimorisce i demoni che li caccia via ma è tutto l'insieme di queste cose è pregare con fede a Dio chiedendo comandando a quel demone di uscire da quella persona nel nome di Gesù ma ciò avviene e lo dobbiamo quindi sapere questo perché avviene perché un demone esce lo dobbiamo sapere no? ecco quel demone esce perché lo Spirito Santo lo caccia via per l'aiuto dello Spirito dell'Iddio vivente ecco perché quei demoni escono spiriti che vengono cacciati dallo Spirito della verità dallo Spirito Santo quindi quindi coloro che non conoscono il Dio coloro che non conoscono Gesù Cristo nel senso che ne hanno sentito parlare hanno in bocca il nome di Gesù ma non lo hanno conosciuto nel loro cuore non hanno lo Spirito Santo dimorante dentro di loro questi qua non possono cacciare proprio nessuno capite? i cattolici non cacciano gli esorcisti cattolici sono come questi sono come questi questi giudei questi esorcisti giudei che cacciavano volevano cacciare i demoni ma attraverso l'autorità di un Gesù che loro non avevano conosciuto personalmente ne avevano solo sentito parlare capite? cioè una cosa allora quando io non ero ancora credente e credo anche voi abbiamo sentito parlare tante volte di Gesù credo qui in questo paese cattolico essenzialmente comunque di Gesù se ne sente parlare ma io parlo di me adesso io ero non credente credevo in Gesù che è esistito che ma non lo avevo conosciuto personalmente non era entrato a far parte della mia vita non era entrato dentro il mio cuore lo Spirito Santo non era dimorante dentro di me quindi in quel momento noi anche se parlavamo di Gesù se non eravamo credenti non c'era la vita eterna dimorante dentro di noi non c'era lo Spirito di Dio dentro di noi quindi soltanto citando con la bocca il nome di Gesù non si può fare assolutamente nulla quindi vedete che cosa serve per cacciare i demoni serve la fede in Dio comandare ai demoni nel nome di Gesù Cristo questo è importante certo e poi noi sappiamo che chi fa uscire lo Spirito Maligno i demoni è appunto lo Spirito Santo quindi bisogna saperle queste cose perché fratelli poi ci troveremo a praticarle ci troveremo a doverle praticare proprio oggi mentre meditavo e aspettavo il momento di parlare di queste cose mi ha chiamato un fratello mi ha chiamato un fratello e mi ha detto ah fratello qui sta succedendo una cosa strana una persona a lui cara che era posseduta niente di strano la scrittura è piena di queste cose però in alcuni ambienti io parlo anche pentecostali sono venuti a casa sua e in alcuni ambienti questa cosa sembra strana cacciare i demoni è una cosa strana per i pentecostali pensate voi ma cos'è avvenuto è avvenuto che sono arrivati i pastori anziani altri a pregare e niente e non succedeva niente questa persona rimaneva ferma immobile non si muove poi ho detto ma fratello perché questo mi ha chiamato ma io non capisco cosa sta succedendo poi ho detto ho pregato lui da solo con quella persona imponendogli anche le mani e quel demone si è svegliato e ha cominciato a gridare forte infatti l'abbiamo letto prima in un passaggio che gridavano forte questi posseduti prima di abbandonare prima che i demoni abbandonassero quel corpo gridavano portavano quella persona a gridare molto forte ebbene gridava molto forte siccome erano le due le tre di notte si preoccupava allora ha cessato la preghiera però il suo problema qual era? ma come questi pastori si chiamano pastori e non è successo niente ho pregato io semplice credente e lo spirito si è smosso almeno cioè io non sono riuscito a cacciarlo però almeno si è smosso allora l'ho esortato a pregare e digiunare perché è anche scritto in un passaggio dei Vangeli che certi spiriti non escono se non con la preghiera e il digiuno quindi fratelli in alcuni momenti è necessario anche digiunare per poter espellere dal corpo di qualcuno dei demoni quindi c'è bisogno proprio di applicarsi a fare determinate cose per prepararsi per avere quella forza spirituale quella fede e quella autorità che viene da Dio per poter cacciare per poter cacciare per poter cacciare i demoni e quindi si meravigliava diceva ma questi pastori ma i pastori sono impostori la maggior parte sono degli impostori sono lì per prendersi soldi ma vedi un po' e poi dopo alla fine ha detto anche vabbè dai dategli un po' di medicine vedrai che migliorerà cioè ma come un pastore che dice queste parole mentre questo semplice fratello diceva ma io so che quello lì è posseduto per quale motivo dobbiamo dargli delle medicine ma che serve cioè non servono neanche capite no questo per dirvi che stiamo parlando di cose che sono scritte nella Bibbia ma non tutti i cristiani le vedono come sono scritte capite cioè è importante che voi guardiate anche questo tipo queste scritture queste importanti scritture le guardiate le esaminiate le studiate perché è necessario che voi le impariate così come sono scritte e le mettiate in pratica perché prima o poi vi capiterà fratelli e sorelle vi capiterà di mettere in pratica i posseduti ci sono sono in mezzo a noi in mezzo alle chiese sono dappertutto non sono assolutamente disturbati dai culti di queste comunità lo spirito santo non li disturba là dentro ma per quale motivo ma perché non è operante lo spirito santo dentro tali comunità ecco perché a me mi è capitato personalmente che andando in una comunità delle adi il giorno della preghiera uno vicino a me mentre pregavamo cade a terra gridando parlava anche in lingue parlava in lingue gridava e vomitava io ho aperto gli occhi e l'ho guardato io ho visto sotto la pelle della sua faccia come se si muovesse qualcosa come se sotto un tappeto si muovesse un animale sotto un lenzuolo si muovesse qualcosa ecco sotto pelle nella faccia ho visto qualcosa di simile in qualche immagine sì in qualche video ho visto qualcosa di simile anche se era scenografico è finto non era un vero posseduto era sapete certi film di esorcisti di cose li hanno fatti vedere era proprio una cosa simile l'ho visto io con i miei occhi allora cosa faccio ma vedendo ciò dico al pastore ma io ero giovane io sto parlando del 1994 1994 quindi sto parlando di vent'anni fa fratelli e sorelle capite io convertito nel 90 nel 94 già ma cosa la conoscevo riuscivo a discernere alcune cose di base non è che era allora allora dico al pastore fratello ma scusa ma c'è un po' seduto in mezzo a noi e viene tutte le volte in comunità anche la preghiera ogni volta che c'era il culto di preghiera era lì cadeva a terra vomitava insomma alla fine si ripeteva la cosa e gli ho detto qui bisogna fare delle riunioni per pregare per lui affinché il demone lo lasci cioè mi sembrava di aver detto una cosa semplice così come scritta che voglio dire invece mi è stato risposto no non era posseduto dal pastore dal pastore e quindi io ci rimasi male non ho avuto altre parole da rispondere me ne sono andato triste e amareggiato perché non c'era neanche questo discernimento ma dopo ho capito perché col tempo ho capito perché ma perché non hanno l'autorità non hanno la spinta dello spirito santo non hanno la forza dello spirito non hanno niente niente questi pastori che provenga da dio capite hanno in bocca come lo avevano quei giudei quei giudei il nome di gesù ce l'hanno in bocca ma non ce l'hanno nel cuore parlano dello spirito santo ma con la loro bocca ma non ce l'hanno nel cuore infatti 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 cioè si deve si parlare con la bocca ma dobbiamo parlare di quelle cose che abbiamo nel cuore capite non possiamo parlare di cose di cui non crediamo perché se parliamo di cose di cui noi non crediamo non ha nessuna forza le parole che noi diciamo capite la forza la potenza delle parole la pienezza di convinzione da dove viene quando uno parla viene dal fatto che quelle cose tu le credi veramente perché se uno parla e non ci crede lui per primo come farà a convincere gli altri ma se uno non crede nei demoni non crede nello spirito santo non crede nella potenza di dio ma come fa a cacciare i demoni nel nome di gesù non lo potrà fare non lo potrà fare quindi fratelli per cacciare i demoni è necessario che dentro quella persona dentro quel credente ci sia lo spirito di dio capite cioè queste cose avvengono ma ci vogliono dei presupposti ci vogliono delle caratteristiche ci vogliono degli elementi basilari che sono appunto la fede in dio una santificazione in comunione per stare in comunione con dio e ci vuole anche anche lo spirito di dio dimorante capite perché vi faccio un esempio un cornelio che di cui la parola rende buona testimonianza che pregava digiunava e tutto ma non era salvato quindi anche se lodato dallo stesso iddio attraverso le scritture pure non aveva lo spirito di dio quindi neppure cornelio nel momento in cui non era credente non poteva era impossibile per lui cacciare i demoni perché non aveva operante in lui lo spirito santo che come abbiamo visto Gesù anche Gesù cacciava i demoni per l'aiuto per l'aiuto dello spirito santo quindi fratelli queste cose sono importanti guardate bene che li incontrerete i posseduti voi vi incontroverete da qualche parte in qualche riunione di preghiera e vi incontrerete i posseduti quindi vi dovete preparare questi argomenti magari fino ad oggi almeno con me con alcuni di voi ne ho parlato con altri no ma badate bene che questi cioè non è che ti capita e poi ti vai a preparare dopo capite quando ti capita ti capita devi essere già preparato ad affrontare questi problemi come fare ecco quindi che vi dovete inginocchiare a pregare Dio per ricevere quell'autorità per ricevere quella potenza quella sapienza da Dio per sapere come fare e anche che lo Spirito Santo operi cacciando i demoni dovete avere quella fede quella fede viene in voi se voi queste cose le studiate a casa vostra vi inginocchiate davanti a Dio e studiate quando Gesù cacciava i demoni e quando gli apostoli cacciavano i demoni perché prima o poi vi capiterà e non dovete essere sproveduti non dovete procurarvi l'olio della lampada come le cinque vergini avvedute quest'olio ve lo dovete procurare prima non è che ve lo dovete procurare dopo anche perché gli incontri quando ci sono bisogna risolverli in quel momento talvolta le cose a volte non c'è una seconda possibilità quindi non ci dobbiamo far trovare senza olio nella lampada capite pensarci prima procurare prima quello di cui necessitiamo nella conoscenza nella preghiera nello studio e nella fede nella fede in Dio sapendo come stanno le cose per quanto riguarda anche i demoni e come si cacciano i demoni e chi li può cacciare i demoni capite non è che tutti smettano a cacciare i demoni c'è bisogno di determinate cose quindi santità fede preghiera digiuno e soprattutto la cosa più importante insieme alla fede è che devi essere un credente deve esserci in te lo spirito di Dio se no se non c'è lo spirito di Dio cosa vai a cacciare cosa vai a cacciare come quegli esorcisti che abbiamo letto in atti che parlavano di un Gesù che non avevano incontrato personalmente parlavano di un Gesù che non avevano che non abitava nel loro cuore capite quindi di un Gesù che a loro era sconosciuto e per questo non potevano cacciare i demoni adesso passiamo a parlare torniamo in Marco 16 perché in Marco 16 c'è un altro argomento importante oltre quello di cacciare i demoni un altro dei segni è quello che parleranno lingue nuove i credenti quindi quindi i credenti quindi al versetto sempre 17 parleranno in lingue nuove anche questo è uno dei segni dei credenti perché quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo ha come segno quello di parlare in lingue nuove vedete come le scritture alla fine si completano tutte quante quindi noi crediamo che questi passaggi biblici di cui sono assenti nei due più antichi manoscritti crediamo che siano perfettamente veraci vedete quello di cacciare i demoni l'abbiamo dimostrato oggi ne dimostriamo solo alcuni di versetti perché abbiamo detto che il problema c'è dal versetto 9 al versetto 20 ma io sto dimostrando alcuni versetti che sono confermati dalle scritture gli altri sono anch'essi confermati però non ne parleremo oggi e chi vuole se li va a confrontare col resto delle scritture ma questi noi li confermeremo li confermiamo con le scritture infatti è scritto che questi saranno i segni di coloro che avranno creduto parlerà uno dei segni e parlerà nel lingue nuove infatti se andiamo andiamo in atti degli apostoli capitolo 1 versetto 4 e versetto 8 vediamo cosa dice Gesù atti 1 4 Gesù quando fu risuscitato rimase 40 giorni con i suoi discepoli li ammaestrò di e dei loro altri comandamenti gli spiegò le scritture insomma fece la sua opera prima di partirsi disse queste parole prima di ascendere in cielo Gesù dice anche queste parole capitolo 1 versetto 4 e trovandosi con essi ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre la quale egli disse avete udite da me poiché Giovanni Battista Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni poi al versetto 8 dice ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra questa era la promessa che il Padre fece ai suoi figlioli al suo popolo è una promessa al suo popolo attenzione per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo bisogna essere credenti bisogna già essere credenti quindi questa promessa è fatta a coloro che avevano già creduto a che hanno già creduto a coloro infatti è un segno di coloro che hanno creduto capite parlare lingue nuove quindi essere battezzati con lo Spirito Santo con il segno del parlare di lingue nuove è un segno per i credenti per coloro che hanno già creduto e questo è uno dei segni appunto quando ha cominciato ad avverarsi questo segno la prima volta che si sono sentite le lingue nella Chiesa nelle lingue nuove sono stati lo leggiamo in il giorno della Pentecoste e lo leggiamo in Atti capitolo 2 al versetto 4 quindi col battesimo con lo Spirito Santo si viene riempiti di Spirito Santo si riceve la pienezza dello Spirito Santo e questa pienezza porta questo vaso di terra il vaso di terra che è il corpo umano a traboccare a un traboccamento esteriore che questa esteriorità si manifesta con parlare lingue nuove così così Dio ha stabilito e così troviamo scritto infatti perché Dio ha stabilito così e così troviamo scritto e in Atti capitolo 2 al versetto 4 stanno scritte appunto queste parole e tutti e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi voglio voglio dirvi questo che chi non è riempito di Spirito Santo non è che non ce l'ha lo Spirito Santo e non sappiamo neanche in quale misura ce l'abbia capite perché noi siamo dei vasi di terra questi vasi di terra ricevono una misura di Spirito che può essere alta bassa diversa come un bicchiere pieno una bottiglia piena possiamo mettere più o meno più o meno quantità d'acqua dentro quest'acqua può traboccare se noi ne mettiamo molta di acqua nel vaso questa trabocca ecco quando si riempie totalmente il vaso di acqua nel nostro caso stiamo parlando dello Spirito Santo perché infatti in relazione allo Spirito Santo parliamo di misura di Spirito e di pienezza di Spirito appunto perché indica una certa misura una certa pienezza non si parlerebbe di pienezza se non c'è anche non ci fossero delle misure capite poi anche nel Vangelo di Giovanni sta scritto che Dio non ha dato a Gesù uno Spirito con misura allo Spirito Santo ma è stato riempito è stato unto pienamente di Spirito Santo anche Gesù questo ci fa capire che che lo Spirito Santo può abitare in un credente in una certa misura che può essere di più o di meno e dipende anche dal contenitore quindi non ci meravigli se talvolta un fratello che magari non è ancora battezzato con lo Spirito Santo ma ha lo stesso ugualmente tanta sapienza tanta intelligenza o tante cose che Dio gli ha dato perché perché dipende dal vaso suo se è grande e dalla misura di Spirito che Dio gli ha dato ogni nostra intelligenza ogni nostra capacità non viene da noi ma ogni capacità che noi abbiamo viene da Dio quindi viene da Dio ed opera in noi attraverso che cosa opera attraverso lo Spirito Santo quindi la pienezza dello Spirito il Battesimo con lo Spirito che si manifesta con il segno delle lingue con il segno delle lingue non aggiunge nulla alla salvezza badate bene la salvezza è completa quando si nasce di nuovo e si nasce di nuovo perché lo Spirito Santo opera in quella persona facendogli credere facendogli credere nel sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce e quindi i suoi peccati vengono rimessi quindi quella è la salvezza in quel momento avviene una rigenerazione spirituale la salvezza è completa lì il Battesimo con lo Spirito Santo come abbiamo letto al versetto 8 del capitolo 1 di Atti riceverete potenza dice Gesù non dice riceverete riceverete la salvezza ma la potenza cioè la salvezza l'avevano già ricevuta chi ha creduto ed è stato rigenerato spiritualmente ha già creduto anche se non è ripieno di Spirito Santo ha in Lui lo Spirito Santo lo stesso una misura ma la salvezza in Lui è compiuta pienamente non c'è bisogno di aggiungere nulla alla salvezza capite quindi il Battesimo con lo Spirito Santo non scende in un credente per essere salvati per partecipare alla salvezza dico questo perché ad esempio gli unitariani o altre sette possono sorgere in mezzo alla Chiesa di Dio e dire che lo Spirito Santo ce l'hai solamente se tu parli lingue e questo è sbagliato non è vero fratelli non è vero perché lo Spirito Santo si riceve nel proprio cuore nel momento in cui si nasce di nuovo perché se uno non ha lo Spirito di Cristo egli non è di Lui quindi se se uno non è battezzato con lo Spirito Santo ma ha creduto ed è stato rigenerato egli è lo Spirito di Dio gli appartiene fa parte della Chiesa di Dio è stato diciamo battezzato di Spirito cioè lo Spirito lo ha immerso nel corpo di Cristo quindi è entrato a far parte della famiglia di Dio ma questo è un altro argomento di cui abbiamo già parlato e ci torneremo ci torneremo ancora in altri in altri momenti come Dio vorrà adesso ci interessa il battesimo con lo Spirito Santo perché lo stiamo esaminando perché abbiamo letto in Marco che c'è scritto che coloro che avranno creduto parleranno lingue nuove ecco quindi la promessa di Dio di dare il riempimento la pienenza il riempimento di Spirito di dare il battesimo con lo Spirito Santo la cui conseguenza il cui segno è quello di parlare lingue nuove e questo è cominciato ad avverarsi nel momento in cui c'è stata la prima dispensazione della pienezza dello Spirito Santo ed è avvenuto il giorno della Pentecoste da allora è cominciato badate bene non è cessato niente ancora non è ancora cessato niente le lingue cesseranno quando tornerà il Signore le lingue cesseranno quando verrà la perfezione ma la perfezione quando verrà la perfezione verrà quando anche il nostro corpo sarà redento e il nostro corpo sarà redento quando tornerà il Signore Gesù Cristo capite quindi quindi al ritorno del Signore sicuramente le lingue cesseranno ma frattanto che aspettiamo il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo anche il battesimo con lo Spirito Santo deve far parte del nostro desiderio lo dobbiamo desiderare cercare dobbiamo pregare Dio che Dio ci riempia di potenza dello Spirito Santo perché c'è potenza capite e quindi il nostro servizio nella Chiesa non è che si aggiunge nulla della salvezza ma il nostro servizio nella Chiesa essendo riempiti di Spirito Santo è migliore più efficace porta più risultati capite a Dio per la gloria di Dio naturalmente quindi è importante bisogna desiderarlo è una promessa che Dio ha fatto al suo popolo e noi lo dobbiamo desiderare e se lo desideriamo lo dobbiamo anche chiedere in preghiera non dobbiamo venire meno in questo fratelli dobbiamo pregare chi ancora non è battezzato con lo Spirito Santo ebbene sappia che lo deve domandare ma non è una cosa facoltativa è una cosa obbligatoria perché è una promessa di Dio tu credi nelle promesse di Dio le vuoi le desideri le promesse di Dio e allora le devi domandare perché Giacomo dice che voi non ricevete perché non domandate perché ci sono quelli che questa cosa non la domandano non la vogliono e quindi Dio non gliela dà ma se tu la vuoi la devi domandare quella verace però io parlo del dono che viene da Dio non vi inventate nessuna lingua non le parliate di vostra volontà non vi mettete a dire masciai masciallai con la vostra bocca che non c'entra niente quelle non sono lingue un linguaggio che viene dallo Spirito Santo è un vero linguaggio con tutte le sue regole con tutte le sue regole grammaticali anche i suoi accenti se io mi metto a parlare inglese parlo con la lingua devi parlare con quella lingua ma anche con l'accento inglese non con l'accento italiano perché perché a parlare le lingue sarà lo Spirito Santo stesso quindi lo Spirito Santo conosce gli accenti non solo le regole grammaticali perfette ma anche gli accenti quindi uscirà quel linguaggio quel linguaggio nuovo sarà preciso come se fosse un linguaggio natio di quel posto capite quindi io parlo parlo in questa maniera perché perché purtroppo in mezzo alla Chiesa ci sono ci sono anche linguaggi falsi che alcuni si sono inventati e purtroppo dobbiamo dire anche questo dobbiamo dire che in mezzo alla Chiesa avviene anche questa abominazione ma noi non dobbiamo essere tra quelli noi dobbiamo essere tra quelli che si inginocchiano davanti a Dio e aspettano un dono perfetto che viene dall'alto se dobbiamo aspettare aspettiamo non c'è problema ma il Dio lo darà a suo tempo ma lo darà a noi c'è richiesto di domandare e aspettare e credere senza venire meno nella fede quindi domandiamo fratelli questo è cosa buona e grata davanti a Dio domandiamo anche questo quindi abbiamo visto che i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo e parlarono in lingue nuove come Gesù aveva annunciato coloro che avranno creduto parleranno in lingue nuove tra i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto quindi si è avverato anche questo ma queste lingue le vediamo anche in altri punti delle scritture ne citiamo altri ad esempio citiamo Cornelio visto che l'abbiamo già citato Pietro ha annunziato l'Evangelo a Cornelio e questo lo leggiamo al capitolo 10 di Atti degli Apostoli e a un certo punto dal versetto 44 leggiamo dopo che Pietro Pietro sta parlando a Cornelio e la sua casa mentre durante le parole di Pietro avviene questo versetto 44 quindi 10 44 di Atti mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio vedete quindi quindi anche Pietro e scusate anche anche Cornelio lui e tutta la sua casa ricevettero ricevettero lo Spirito Santo e li portò a parlare in altre lingue vedete il segno era quello quindi ancora una volta si adempie quello che Gesù ha detto in Marco che il segno che è uno dei segni che accompagnerà coloro che avranno creduto sarà quello che parlerà nelle lingue nuove Cornelio quindi non solo i 120 ma anche Cornelio e la sua casa e la sua casa quelli che ascoltarono tutti quelli che ascoltarono il messaggio di Pietro lo Spirito Santo cadde su loro non stavano neanche pregando per domandare quello capite ma il Dio ha voluto prima sicuramente perché siccome lo Spirito Santo lo ricevono solo quelli che hanno creduto sicuramente è avvenuto questo ma è sicuro non dobbiamo mettere in dubbio questa asserzione mentre Pietro parla avviene che questi che ascoltano hanno creduto hanno creduto e quindi sono stati in quel momento purificati perdonati rigenerati spiritualmente e poco e subito dopo dopo poco tempo quindi non sappiamo se un minuto dieci minuti quanto tempo è passato non sappiamo comunque qua un po' di tempo dopo che sono stati rigenerati quindi diventati credenti dopo che sono diventati figlioli dell'idio altissimo sono stati lo Spirito Santo cadde su di loro e cominciarono a parlare lingue nuove vedete si adempie così ancora la scrittura la promessa di Gesù la promessa del Padre che scende anche su Cornelio e la sua famiglia e sono riempiti e sono stati riempiti di Spirito Santo e si è manifestato il segno di parlare in lingue nuove ma non è successo solo a Cornelio e ai 120 ma è successo anche ad altri io vi cito quei passaggi che sono scritti nella parola allora dobbiamo andare avanti e andare fino a dove Paolo si trova ad Efeso quindi capitolo 19 di Atti degli Apostoli quindi l'Apostolo Paolo incontra delle persone dei discepoli dei discepoli ad Efeso e capisce che erano credenti ma capisce anche l'Apostolo Paolo che non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo cioè il battesimo con lo Spirito Santo cioè erano credenti discepoli di Cristo ma non avevano la pienezza dello Spirito allora capito questo ecco che al versetto 5 stanno scritte queste parole 19,5 di Atti udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzava erano in tutto circa 12 uomini vedete quindi Paolo impose loro le mani e questi ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo la pienezza dello Spirito questa pienezza portò loro traboccante Spirito questo Spirito che nel traboccare ecco che si manifestava appunto nel parlare lingue nuove quindi anche qui circa questi 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 circa 12 uomini così è scritto nella parola e così noi diciamo erano stati riempiti di Spirito Santo e parlavano in lingue nuove vedete quindi ancora è confermato che anche quel passaggio in Marco anche se mancante anche se mancante nel nei due manoscritti più antichi pure non contrastano le Sacre Scritture ma anzi sono tutte confermate quindi noi credendo in quei versetti che siano parola di Dio e siano ispirati sicuramente non veniamo deviati da nessuna parte non veniamo deviati né a destra né a sinistra ma rimaniamo perfettamente nella via maestra non siamo noi quelli che contorcono le scritture che si fanno le vie tortuose piene di salite e discese di giravolte particolari noi andiamo in una via sola dritta e stretta certo e angusta e pericolosa e piena di sacrifici e piena di inciampi e piena di tante cose di difficoltà di prove di sofferenza di solitudine però quella è la via e noi quella stiamo percorrendo la via che mena al cielo e quella dobbiamo stare in quella via fratelli e sorelle e non abbandonarla mai quindi abbiamo visto che uno dei segni era anche quello di parlare in lingue nuove ma se torniamo ancora vediamo come continua torniamo in Marco 16 Marco 16 vediamo le altre cose che riguardano i segni che accompagnano quelli che hanno creduto prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male ad esempio per quanto riguarda questo di bevesse e prenderanno in mano dei serpenti questo perché se tu prendi in mano dei serpenti vuol dire che non hai paura del serpente vuol dire che sei tu che governi il serpente anche se questo è velenoso capite quindi prenderanno in mano dei serpenti perché perché i serpenti tu sai che non ha potestà attenzione non si deve spettacolarizzare questo aspetto questa cosa questo passaggio biblico perché ci sono taluni che c'è qualcuno che applicando questo versetto rendendolo una sorta di spettacolo prende in mano serpenti velenosi giusto perché vuole far vedere forzattamente che c'è questo segno capite non è che adesso noi andiamo in gira a cercare serpenti velenosi perché li dobbiamo prendere nelle mani però se ci capitano e dopo vediamo un versetto sempre in atti degli apostoli se ci dovesse capitare noi dobbiamo sapere che i serpenti non hanno potestà alcuna contro di noi non possono fare nulla neanche con il loro veleno capite cioè dobbiamo stare tranquilli non dobbiamo temere nessun veleno non dobbiamo temere nessun serpente ma non dobbiamo temere neanche le cose mortifere questo se berrano è molto importante perché seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male ora questo è importante perché ai tempi d'oggi cosa succede succede che i cibi non sono più sani succede che nei cieli ci spruzzano una sorta di DT chi dice che sia una cosa che dice che per un motivo che per un altro però sicuramente se non è da Dio se lo spruzzano gli aerei se lo spruzzano e scende su di noi sopra le acque sopra sopra i terreni sopra gli orti sopra la frutta sopra le verdure sicuramente non è cosa buona quello che fa l'uomo a me non mi convince sicuramente non è cosa buona quindi fertilizzanti insomma tutto quello che può contaminare i cibi che Dio ha fatto capite contaminare con del veleno mortifero con delle cose che ci possono danneggiare ma come dobbiamo reagire a queste cose non dobbiamo temere i serpenti abbiamo detto ma non dobbiamo temere neanche i veleni dei cibi ecco quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo pregare anche per i cibi dobbiamo pregare con intensità fratelli non sottovalutate la preghiera per il cibo è importantissima noi chiediamo e crediamo che Dio possa purificare i cibi perché alcun veleno non ci può fare nulla però noi preghiamo il Dio affinché i veleni affinché tutte le cose che ci contaminano non ci possano fare del male quindi dobbiamo pregare che Dio purifichi il cibo tutto quello che noi compriamo tutto quello che noi che noi mangiamo diciamo grazie signore grazie che ci hai dato anche questo purificalo da ogni male ed ecco quindi che come scritto si avvera quindi dobbiamo credere che si avvera anche questo passaggio biblico berranno bevessero o mangiassero il senso è lo stesso anche se mangiamo o beviamo qualcosa di di veleno mortifero pure perché noi preghiamo il Dio con fede con fede non ne abbiamo alcun male quindi non dobbiamo temere quello che succede nel mondo veleni di qua veleni di là con questo non voglio dire che andate a mangiare e bere tutto quello che volete anche se c'è scritto veleno o varecchina non sto dicendo questo quello che sto dicendo è mangiate pure serenamente tranquillamente quello che andate a comprare nei supermercati e pregate il Dio che benedica quel cibo capite questo sto dicendo non andate a bere veleni per vostra volontà non è così che non si deve tentare il Dio capite perché poi questo è tentare il Dio infatti quelli che hanno tentato il Dio qualcuno adesso non so se uno o più di uno ma uno me lo ricordo sicuro che cosa ha fatto uno di questi serpenti velenosi l'ha morso ed è morto è morto lui faceva spettacoli che prendeva in mano i serpenti il serpente l'ha morso e è morto vedete questo vuol dire tentare il Dio e Dio poi l'ha punito severamente quindi non tentate il Dio però abbiate fede in Dio che voi potete mangiare bere tranquillamente quello che comprate naturalmente se c'è scritto veleno non bevetelo no non mangiatelo perché è chiaro ma se io mi como una bottiglia d'acqua e quella era avvelenata e io non lo so ho pregato il Dio di benedire tutto quello che entra nella mia casa tutto quello che mangiamo e beviamo state tranquilli non vi succederà nulla ma io anzi credo che molti di noi hanno già mangiato e bevuto molte cose velenose che non sappiamo non conosciamo e Dio per la nostra preghiera perché abbiamo ringraziato il Dio per quello che lui ci ha dato tutto è stato spazzato via il veleno è stato inefficace non ha prodotto nessun male in noi quindi e si è adempiuta ancora questa scrittura che noi leggiamo per quanto riguarda i serpenti la nostra il veleno dei serpenti che non dobbiamo temere i serpenti nei serpenti nessun'altra cosa leggiamo quello che è avvenuto in arti degli apostoli all'apostolo Paolo al capitolo 28 dopo che Paolo praticamente vi ricorderete che è naufragato andava verso Roma con un centurione era prigioniero dei romani e lo stavano portando a Cesare alla presenza di Cesare come lo stesso Paolo aveva richiesto si era appellato a Cesare e a Cesare l'hanno mandato ci andava via mare e però cosa è successo una tempesta ha colto di sorpresa la nave questa nave è stata distrutta ed è la tempesta l'ha fatta diciamo l'ha fatta naufragare l'ha fatta arrivare fino a Malta siccome sono caduti in mare era d'inverno insomma c'era freddo raccoglievano delle legna per accendere un fuoco per riscaldarsi e allora stanno scritte queste parole dal capitolo 28 dal versetto 1 leggiamo dal versetto 1 di Atti degli Apostoli e dopo che fummo scampati riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta e i barbari usarono verso noi umanità non comune poiché acceso un gran fuoco ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo or Paolo avendo raccolto una quantità di legna di legna secche e avendo le poste sul fuoco una vipera sentito il caldo uscì fuori e gli si attaccò alla mano e quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano dissero fra loro certo quest'uomo è un omicida perché essendo scampato dal mare pur la giustizia divina non lo lascia vivere ma Paolo scossa la bestia nel fuoco non ne risentì male alcuno or essi si aspettavano che gli enfierebbe o cadrebbe di subito morto ma dopo aver lungamente aspettato veduto che non gliene avveniva alcun male mutarono parere e cominciarono a dire che gli era un dio vedete il dio ha trasformato l'incontro di una vipera con l'apostolo Paolo in un segno per i maltesi per quei barbari e dopo anche lì Paolo pregò e guarì molte persone tra cui anche il padre di Publio un uomo principale dell'isola che dopo comunque andremo anche a leggere anche quel passaggio quindi vedete da un qualcosa che apparentemente è negativa ecco perché sta scritto fratelli questo è uno di quegli esempi che c'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio quindi quel fatto della vipera che gli si è attaccata alla mano dell'apostolo Paolo vuol dire che l'ha morso nella mano poi Paolo l'ha scossa l'ha buttata nel fuoco all'inizio diciamo i maltesi sono rimasti pensavano che lui morirebbe si gonfiava tutto e quel veleno lo uccidesse invece hanno visto che non è avuto alcun male non è stato male per niente capite e quindi hanno mutato parede cioè da che lo vedevano come un uomo ingiusto un uomo omicida un uomo malvagio che doveva per forza di cose morire per i giudizi di Dio ecco che passano a chiamarlo addirittura a considerarlo come un Dio quindi degno di essere ascoltato capite cioè il Dio attraverso quel segno ha aperto una porta affinché Paolo potesse operare annunziare l'Evangelo compiere segni e prodigi guarire gli infermi ed essere quindi così ascoltato quindi Dio tra le cose che ha voluto operare in quell'isola c'era anche questo segno di questo serpente del veleno di questo serpente di questa vipera quindi vedete come Dio trasforma gli eventi che apparentemente sembrano negativi ma poi hanno un motivo un motivo giusto un motivo buono per cui accadono e talvolta avviene proprio questo nella nostra vita ci stanno accadendo delle cose difficili ci accadono delle cose dure da sopportare ci sono accadute o ci accadono delle cose malvagie delle cose che ci fanno tanto male ma poi lasciano un frutto buono di giustizia di santità di amore per la parola di Dio per amore per i fratelli però talvolta certi insegnamenti noi li impariamo solamente se passiamo attraverso grandi sacrifici e grandi dolori capite solo dopo comprendiamo e abbiamo un grande ammaestramento però durante il percorso quando siamo in mezzo alla prova è chiaro che soffriamo però fratello sorella che ti trovi in una prova in un momento difficile non ti preoccupare affronta prega il Dio per affrontarlo e superarlo perché sicuramente alla fine di quella prova di quelle di quello che ti sta accadendo ci sarà un buon frutto imparerai a crescere nella pazienza imparerai a soffrire come ha sofferto anche il nostro Signore Gesù Cristo quindi vedete anche questi segni si avverano e sono veraci fratelli sono veraci anche quello che si prendono in mano dei serpenti senza averne alcun male quello di bere alcunché di mortifero senza averne alcun male questa è la parola del Dio vivente fratelli si adempie dobbiamo credere in quello che è scritto noi dobbiamo dubitare delle parole degli uomini ma non dobbiamo dubitare mai delle parole di Dio perché Egli è Dio non può mentire cioè è impossibile che Dio menta capite? non è capace Dio a mentire non è capace ma perché non ne ha bisogno perché uno mente perché deve nascondere determinate cose perché non riesce a dire la verità perché non riesce cioè ha bisogno di un rifugio che è la menzogna ma Dio non ha bisogno di rifugio da chi si deve nascondere da chi si deve a chi deve rendere conto capite? non ha bisogno Dio non ha mentito non può mentire non ha mentito in Lui non c'è ombra alcuna di rivolgimento in Lui non c'è una minima ombra di peccato capite? di errore di sbaglio di dubbio di niente Egli è Dio lì Dio dell'universo quindi si è lasciato scritta anche queste cose è perché noi ci dobbiamo credere e ci dobbiamo credere con tutto il cuore senza venir meno nella fede in modo assoluto poi ancora sempre in Marco leggiamo queste ultime parole che poi terminiamo con queste imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno noi abbiamo visto nei Vangeli abbiamo letto tante volte che Gesù ha imposto le mani e ha guarito ha guarito tanti infermi ma ebbene questa potestà è data anche a taluni anche a taluni credenti che è data la potestà di imporre le mani affinché questi siano guariti e ora andiamo a vedere due esempi che li leggiamo in Atti degli Apostoli sempre in Atti degli Apostoli perché in Atti degli Apostoli sta scritto quello che avvenne alla Chiesa di Cristo subito dopo la dipartenza dal cioè la Chiesa dopo che Cristo si dipartì dalla Terra ecco quindi la Chiesa Antica la Chiesa Modello a cui tutti noi dobbiamo aspirare e desiderare nel bene naturalmente perché la Chiesa Antica come anche oggi ci aveva delle cose buone e cose sbagliate noi desideriamo le cose buone e le cose sbagliate ci servono affinché non dobbiamo praticarle quelle dobbiamo stare attenti a non praticare quelle cose quindi andiamo a leggere al capitolo 9 di Atti degli Apostoli che Dio dopo che Dio salvò l'Apostolo Paolo mandò a lui cioè lo rese cieco praticamente cioè Dio quando lo salvò Gesù quando gli apparve nella via per Damasco tra le cose che fece lo salvò lo purificò credette Paolo però rimase cieco non vedeva e fu portato a Damasco per la mano tenendolo per mano appunto perché non vedeva ora Gesù poi diede ordine a un suo discepolo che si chiama Anania che gli si presentò e quando Anania si presenta a Paolo ecco quindi leggiamo queste parole 9 17 di Atti degli Apostoli e Anania se ne andò ed entrò in quella casa e avendogli imposte le mani disse fratello Saulo il Signore cioè Gesù che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi mi ha mandato perché tu ricuperi la vista e si ripieno dello Spirito Santo e in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e ricuperò la vista poi levatosi fu battezzato e avendo preso cibo riacquistò le forze quindi vedete Anania praticamente andò da Paolo gli impose le mani e Paolo gli caddero come delle scaglie dagli occhi quindi vide di nuovo cioè Paolo fu guarito per l'imposizione delle mani di Anania e fu anche riempito di Spirito Santo in quell'occasione anche se di lui qui dell'Apostolo Paolo qui dopo che fu ripieno di Spirito Santo non c'è scritto che parlò in lingue va bene però lo deduciamo lo deduciamo senza tema di essere smentiti perché Paolo in un'epistola dice io parlo in lingue più di tutti voi quindi Paolo è sicuro che parlava in altre lingue in lingue nuove domandandoci ma quando ha cominciato l'Apostolo Paolo a parlare in altre lingue ora vedendo il resto della parola si vede che quando uno è riempito di Spirito Santo inizia a parlare in altre lingue quindi siccome qui Anania gli ha imposto le mani affinché ricuperasse la vista e ricevesse lo Spirito Santo è chiaro che sicuramente iniziò in questo momento quando Anania gli fece visita a parlare in altre lingue perché in quel momento fu battezzato con lo Spirito Santo per l'imposizione delle mani di Anania non solo Paolo è stato guarito nella vista ma anche è stato battezzato con lo Spirito Santo capite? perché per questo è stato mandato Anania per la guarigione e anche per per battezzarle in acqua per la guarigione e per il battesimo con lo Spirito Santo infatti dopo che fu battezzato vedete dopo che fu battezzato con lo Spirito Santo si levò e fu battezzato in acqua e si fece anche battezzato in acqua da Anania sicuramente quindi vedete l'Apostolo Paolo si è adempiuta la scrittura che abbiamo visto in Marco imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno infatti Paolo è stato guarito per l'imposizione delle mani di Anania ma c'è anche un altro caso qui dobbiamo tornare a Malta al capitolo 28 qui è l'Apostolo Paolo che impone le mani per la guarigione del padre di Publio e leggiamo queste parole capitolo 28 di Atti al versetto 8 e accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì avvenuto questo anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti ed essi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie vedete quindi anche qui l'Apostolo Paolo impose le mani al padre di Publio un uomo principale in quell'isola di Malta vedete un naufragio no? voi considerate le opere meravigliose di Dio che sono impescrutabili per l'uomo da un naufragio da un rischio della vita si bagnarono presero freddo diciamo furono catapultati quindi forzatamente su quell'isola di Malta e c'erano dei motivi per cui Dio ha stabilito quel naufragio quindi fratelli ogni difficoltà ogni tempesta che viene nella nostra vita c'è sempre un'isola di Malta sappiate che c'è sempre un motivo per il quale ciò avviene è solo che noi dobbiamo sottometterci alla volontà di Dio e vedere qual è l'opera che dobbiamo compiere cos'è la lezione che dobbiamo imparare per quella tempesta che è arrivata nella nostra vita ma questa era una parentesi figurativa una figura di quello che è accaduto a Paolo ma quello che ci interessa per il contesto di cui stiamo argomentando è appunto che per l'imposizione delle mani le persone possono essere guarite e questo è uno dei segni che accompagna anche questo è uno dei segni che accompagna coloro che hanno creduto quindi vedete fratelli atteniamoci ai segni che sono scritti nella Bibbia atteniamoci a questi stiamo attenti a quelli che portano segni strani segni che non sono riconosciuti nella scrittura fratelli ma bastano quelli che sono scritti basta che un servitore di Dio manifesti se li riceve da Dio è chiaro che manifesti i segni i segni che Dio ha stabilito non c'è bisogno di inventarsi niente fratelli quindi state attenti a quelli che si inventano qualche cosa per attirare l'attenzione lasciate stare lasciate stare già se cominciano a fare spettacoli segni cose varie agli stessi spettacoli teatrali mimi tutte queste cose lasciate stare tutta cosa che non è scritta nella parola i segni per attirare l'attenzione sono quelli che sono scritti nella Bibbia quelli dobbiamo aspettare quelli dobbiamo pregare Dio che manifesti capite sono questi segni tutto quello che non rientra nelle scritture guardatelo con sospetto state attenti perché queste cose vi possono sedurre tra i segni che possono sedurre i santi ricordatevi che in Apocalisse c'è scritto anche che sarà data potestà all'anticristo di dare uno spirito di vita a un'immagine affinché venga adorata l'immagine vedi anche questo segno questo segno questo segno bugiardo questo segno che viene dal maligno dobbiamo conoscere anche quel tipo di segno affinché ci guardiamo e non ci prostriamo mai a una statua anche se parla o chissà cosa farà non lo so però però dobbiamo conoscere le scritture vedete le scritture conoscere le scritture ci crea un rifugio ci crea una protezione perché noi se conosciamo le scritture tutto quello che non proviene da Dio lo riconosciamo capite quindi è importante importante quindi allora per ritornare al nostro soggetto di oggi sui segni che accompagnano coloro che hanno creduto dobbiamo pregare Dio che ancora oggi compia segni prodigi e miracoli che ancora oggi il Dio operi potentemente come ha operato nella Chiesa Antica perché non è cambiato nulla siccome Dio non è cambiato la Chiesa l'uomo non è cambiato è sempre malvagio come prima ha bisogno di misericordia di Dio e la sua Chiesa ha bisogno dei segni siccome non è cambiato nulla dalla Chiesa Antica ancora oggi dobbiamo chiedere che Dio operi questi segni che li distribuisca ai Santi questa potestà e che ancora oggi Dio operi potentemente che stenda la sua mano per operare potentemente questo deve essere oggetto delle vostre preghiere fratelli vi sto dicendo queste cose affinché voi le desideriate fortemente le andiate a rileggere da soli a casa vostra e le desideriate intensamente fortemente e le domandiate per voi e anche per gli altri fratelli capite questo bisogna fare abbiamo detto queste cose sia per una conoscenza che bisogna conoscere che ci sono anche queste cose ma anche perché dobbiamo inserirle nelle nostre preghiere capite quindi non mancate ogni volta che vi inginocchiate a pregare Dio ricordatevi di chiedere anche che Dio operi tutte queste cose a Dio che ha fatto i cieli e la terra siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén